Questo rappresenta uno spazio concreto, condiviso, dove cinque imprese si sono unite, hanno unite le risorse, le forze, per una collaborazione importante. Cosa ne pensi? È un'occasione unica per poter mettere insieme aziende con l'obiettivo di creare innovazione. L'addictive manufacturing è un'opportunità, sicuramente nel caso della mia azienda, Termo Key, di sviluppare nuovi prodotti nell'ottica di creare efficienza e valore per i nostri clienti. La possibilità di unire aziende, noi siamo i più piccoli del gruppo, ma il fatto di lavorare con loro per creare know-how ci permette di accelerare questo processo di innovazione. L'importanza della formazione, delle opportunità di formazione per le imprese? Noi abbiamo identificato un alto potenziale in azienda all'interno dell'ufficio tecnico che grazie a questo percorso di formazione lungo sarà in grado di portare in azienda il know-how dell'addictive manufacturing e quindi lui stesso è motivato a far parte di questo percorso di crescita e porterà in azienda e distribuirà questo know-how in azienda, quindi è sicuramente un'iniziativa importante.